Il gelo abbattutosi negli ultimi dieci giorni sulla Sicilia sembra essersi leggermente placato. La situazione sta pian piano tornando alla normalità ed oggi sono state riaperte le scuole a Petralia Soprana. Le strade del centro storico di collegamento delle borgate, grazie anche al lavoro della protezione civile comunale, sono percorribili e quindi adesso è ora di tornare a scuola, scrive il Comune in una nota. Per ragioni di sicurezza resta comunque inattivo il servizio scuola-bus a causa del ghiaccio sull'asfalto che metterebbe a rischio la circolazione del mezzo e dei bambini. Nonostante le temperature siano ancora molto rigide, un lieve miglioramento delle condizioni c'è stato anche negli altri centri delle Madonie. Il traffico sulle strade è tornato regolare in tutta la Sicilia, ma sono ancora in corso le operazioni di spargimento sale nei punti dove nei giorni scorsi si sono verificate abbondanti nevicate e permane il rischio della formazione di ghiaccio. Rimane comunque per molti tratti l'obbligo di catene. Dopo sei giorni di interruzione sono ripresi almeno parzialmente anche i collegamenti via mare tra Pantelleria e la Sicilia. Il Lampedusa della Traghetti per le Isole ha anticipato la partenza da Trapani alle 10 del mattino piuttosto che alle 14, in modo da arrivare sull'isola alle 16. A causa della mareggiata dell'Epifania infatti si è rotto il fanale sopra la diga foranea, rendendo impossibile l'entrata in porto con il buio. Intanto nelle prossime ore è previsto l'arrivo dello scirocco che farà risalire le temperature, ma domenica una bassa pressione africana e lo scirocco porteranno precipitazioni su tutta la Sicilia. Previsti nubi fragili, allagamenti e forti temporali con nuovi disagi all'orizzonte per lo scioglimento della neve nelle zone di montagna. Previsti nubi fragili, allagamenti e forti temporali con nuovi disagi all'orizzonte per lo scioglimento della neve nelle zone di montagna. Grazie.